Lo Spezia, avendolo visto in più partite, è una squadra che è brutto dirlo, ma comunque è una squadra abbastanza sfortunata. Ha avuto tante partite dove ha perso, ma veramente legata ad alcuni episodi. Ha affrontato squadre forti, Benevento, Crotone, dove ha perso, ma non ha sicuramente demeritato. Per cui è vero che si ha incassato molti gol, probabilmente in casa col Trapani, nella squadra, la partita dove magari ha fatto meno bene, però in tutte le altre partite ha fatto delle ottime prestazioni. Ripeto, perdendo degli episodi, è chiaro che quando tu perdi cinque partite poi vengono meno alcune certezze, eccetera, eccetera. Però è una squadra che ha delle caratteristiche ben precise, ha gente davanti molto veloce, che quando riparte fa male, nel uno contro uno molto forti, per cui è una squadra veramente importante per la categoria. Partita chiaramente non bene. Dovremmo avere coraggio quando si dovrà andare avanti, ma avere la pazienza di aspettare quando lo Spezia avrà possesso, una squadra che gioca bene, quindi rispettando l'avversario come abbiamo sempre fatto. Pensiamo e sappiamo dove fargli male, abbiamo le possibilità di fargli male con i giocatori bravi che abbiamo noi, quindi ce la giochiamo a viso aperto quando sarà possibile. Questo cambio di modulo ha fatto sì che in poco tempo conoscessimo bene uno, cioè quello che abbiamo fatto da luglio fino a 20 giorni fa, e stiamo entrando con l'idea di migliorare quello che abbiamo appena iniziato. Quindi questa squadra può fare oggi due sistemi di gioco più o meno della stessa maniera. E' chiaro che quando si ha bisogno di certezze e poi con un pizzico di fortuna porti a casa la vittoria, credo che ti dà anche un po' di consapevolezza nei propri mezzi. E quindi in questo caso si va avanti con questo sistema di gioco, ma in corsa possiamo cambiare con delle certezze, perché comunque sia un modulo e conosciamo bene l'altro. Ma intanto nel 2019 mi sembra assurdo che ancora si stia qui a parlare di colore, eccetera. Io veramente mi vergogno per queste situazioni, quindi Pescara ha fatto una genialata, una risposta top, ma credo che il 99% delle persone, mi auguro, la pensi come Pescara, come tutti quanti noi, no? Queste persone vanno assolutamente marginate, probabilmente attraverso anche misure drastiche, perché insomma non si può pensare ancora che ci siano dei bù allo stadio.